Quindi volevo un capitano a cui affidarmi per un periodo più lungo, ho parlato con Melli, ho detto guarda che ho preso in considerazione di andare da Gigi a dire a Gigi appunto che sarai tu il capitano e lui mi dice no, non ci penso nemmeno, deve farlo Gigi e gli dico ma perché no, poi lascia stare, Gigi se lo merita, è sempre stato capitano lui, gli dico guarda apprezzo tantissimo questo tuo gesto, andrò a parlare con Gigi e vedo cosa mi dice Gigi e Gigi è stato il numero uno perché quando gli ho detto guarda ho pensato che il capitano lo farà a Melli ma ha detto vabbè se pensi così io non vengo. D'altronde loro non si prendono mai in giro. No sai cos'è che Gigi non stava scherzando ma ha detto guarda Giammarco è una cosa a cui tengo tantissimo e gli ho detto Gigi lascia stare ho pestato una merda e fai finta di che questa telefonata non sia mai stata fatta e il capitano sei tu non ti preoccupare ma è una cosa che è nata vedi anche questa cosa qua è stata molto genuina no Melli mi ha detto no Giammarco lo deve fare Gigi, Gigi mi ha detto no Giammarco lo devo fare io.